e anche oggi andiamo a presentarvi i candidati che sono qui con noi. Oggi vi presentiamo nello specifico i due candidati dell'Unione Popolare che sono qua questa sera, non c'entra niente, l'Unione Popolare, ci sono tante liste simili. Allora, Stefania Sala e Mauro Baroni sono candidati per le regionali del mese di febbraio Unione Popolare di Como. Allora intanto ciao Stefania, buonasera, ciao, un saluto anche a Mauro, buonasera ragazzi, ciao Mauro, buonasera. Buonasera a tutti e a tutti, grazie per l'invito. Ben ritrovato, l'invito che è giusto e doveroso l'abbiamo fatto a tutte le liste che partecipano a questa competizione elettorale. Allora spieghiamo intanto, intanto la carta d'entità, tu a Stefania e quella di Mauro, e poi chi sostenete, chi è il vostro candidato, perché non ne abbiamo ancora parlato, è la prima volta che ne parliamo. Prego Stefania. Sono Stefania Sala, ho 54 anni, sono residente a Como, sono un operatore sanitario oramai da 29 anni, prima con l'assistezza domiciliare, adesso in un centro diurno, e mi sono candidata con l'Unione Popolare come presidente Mara Ghidorzi. Ecco, la vostra candidata presidente è Mara Ghidorzi, esattamente, ecco lo spieghiamo perché finora abbiamo parlato degli altri tre candidati, ecco magari Mauro, aspetta che, fallo vedere alla camera 1, aspetta che cambiamo, ecco, perfetto, alzalo un attimo ancora di più, perfetto, così lo possiamo anche vedere. Unione Popolare, Mara Ghidorzi, lei è la candidata presidente, sentiamo anche Mauro, Mauro allora a tua carta di identità. Buonasera, sono Mauro Baroni, ho 57 anni, sono residente a Como e faccio anch'io l'operatore social sanitario. Non sono la mia prima esperienza politica, precedentemente mi sono candidato alle politiche del settembre scorso, ma anche prima, e anche precedentemente mi sono candidato in varie tornate elettorali, sia amministrative che provinciali, sempre in coalizioni di sinistra, anche perché noi con questo progetto politico rappresentiamo la sinistra radicale. Ecco esattamente, hai già messo un po', hai messo dove siete collocati, dove siete collocati. La scelta di queste elezioni regionali, perché candidarvi, Mauro, e sostenere appunto Mara Ghidorzi? Allora, diciamo, Unione Popolare è nata nel luglio scorso, ci siamo appunto presentati le elezioni politiche. Siete proprio relativamente, anzi siete assolutamente più giovani forse del panorama politico. È un progetto politico che è composto da partiti, dalla sinistra appunto Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, i Dendi dei Magistris e il gruppo di Manifesta, che sono cinque deputati che sono usciti dal gruppo 5 Stelle nella primavera scorsa. Noi siamo appunto un progetto politico pacifista, antiliberista e ambientalista. Ci consideriamo veramente un'alternativa, perché ci consideriamo un'alternativa all'alternanza, praticamente al consaciativismo che noi riteniamo che c'è ormai da tre decadi nella politica italiana, tra centro-destra e centro-sinistra, che praticamente noi riteniamo questi due schieramenti elettorali, comprendente anche il terzo polo della Moratti e anche quelli di Calenda. Praticamente noi li chiamiamo, senza offendere nessuno, in senso buono, il partito unico degli affari, perché c'è sostanto un'alternanza, uno scambio di poteri tra lobby e non c'è mai stata una vera alternativa. Questo magari a livello nazionale, però se parliamo a livello regionale, è vero che da 29 anni ormai domina e legifera e governa senza problemi, senza contrasti il centro-destra, però non c'è mai stata una vera posizione, l'abbiamo vista nelle politiche del centro-sinistra, anche perché in questa campagna elettorale molti cittadini, siamo nei mercati, siamo nelle piazze a fare i banchetti e parlare con la gente. Molti ci chiedono se appunto, perché se dovete sconfiggere il centro-destra, non vi siete alleati appunto col centro-sinistra, in questo caso col candidato Maiorino, appunto per i motivi che ho detto prima e anche perché su alcuni punti fondamentali, in primis la sanità, perché l'80% della spesa del PIL della regione Lombardia si batte sulla sanità e del punto focale per tutti, questo innegabile, della campagna elettorale. Quando noi siamo e combattiamo per una sanità totalmente pubblica, vediamo che il centro-sinistra ci candida Pregliasco, che è il direttore sanitario del Galeazzi, che è il capogruppo del gruppo Sandonato, che comprende dieci strutture private, per noi il dialogo non inizia, è finito a priori praticamente. Che cosa vi aspettate Stefania? Che cosa tu personalmente ti aspetti da queste elezioni? Mi aspetto innanzitutto che le persone sanno che ci siamo anche noi, mi aspetto che le persone capiscano i veri problemi, soprattutto in questo periodo della sanità, che ascoltino altre voci, altri pensieri, perché la sanità ultimamente non sta andando bene. Ecco, voi ci lavorate entrambi nel mondo sanitario, comunque. Tocchiamo con mano ogni giorno questo... Che cosa in particolar modo, se tu potessi, vorresti cambiare nel mondo della sanità? Un paio di cose sicuramente, Stefania. Innanzitutto sbloccare il numero chiuso di medicina dell'università, perché è da lì che arrivano meno medici, meno... e la medicina di base ultimamente c'è carenza di questa professione. farei diventare pubblici tutti gli ospedali. Ognuno di noi ha diritto di curarsi, la persona è la persona. Mauro? Allora, il discorso della sanità non è che a priori siamo totalmente contro il privato, non è che vorremmo abolirlo. Diciamo che il privato deve finanziarsi con le proprie risorse e non chiedere soldi al pubblico con la fiscalità generale. Il discorso di fondo è questo. Anche perché il privato fa praticamente soltanto una produzione di interventi, diciamo, e soltanto la logica del profitto. E ha praticamente tralasciato il discorso dell'emergenza che ha lasciato agli ospedali pubblici. Diciamo che è una cosa che noi viviamo quotidianamente, essendo operatori sanitari, che siamo anche colleghi in una struttura. E poi diciamo che nel tempo libero, nel senso buono, siamo anche volontari in un'associazione di soccorso e tocchiamo anche con mano al di fuori del lavoro determinate tematiche quotidianamente. Adesso non per fare il catastrofista o altre cose, ci rendiamo conto con le ambulanze, con le soccorse, le cose che succedono quotidianamente anche nella nostra città di Como. E noi vorremmo appunto invertire questa tendenza, a cambiare questa narrazione. Anche perché c'è anche il discorso del privato, visto che Stefania stava appunto dicendo, accennava prima il discorso del Covid, soltanto pensare quando c'è stato il discorso delle terapie intensive, il tracollo, cioè lì non è stato essere trovati impreparati a questa emergenza. Lì durante la pandemia, in piena pandemia, sono emerse completamente tutte quante le lacune. Le falle in parte le hanno tappate soltanto il servizio pubblico, se pensiamo alle terapie intensive, i privati su 100 posti in terapia intensiva hanno dato soltanto 6 posti letto. Queste sono cose che assolutamente non vanno dimenticate. Come la politica della regione Lombardia, adesso non vorrei ritornare sempre sugli stessi temi, per compiacere ai soliti poteri noti a fare dei favori a Confindustria, la mancata zona rossa in Val Seriana, si potevano evitare circa 6.000 morti in meno. Questo per quanto riguarda allora l'aspetto sanitario, ovviamente. Che cos'altro c'è per Unione Popolare? Che cosa l'Unione Popolare vuole mettere in evidenza ai nostri radioscoltatori, telespettatori, in vista di queste elezioni? Allora, in campagna elettorale, ripeto, parlando con i cittadini quotidianamente, qualcuno non ci critica, perché dice avete scritto un programma, tra virgolette, striminzito, perché il nostro programma è soltanto di 13 pagine. Non è che ci mancano le idee o ci mancano i progetti, assolutamente. Il discorso è che non ci sembrava il caso di scrivere papiri o di fine commedia di 100 pagine che alla fine non legge nessuno. Ci siamo focalizzati sui punti principali. Perché noi riteniamo che... Allora, noi stiamo parlando alla nostra gente, che la chiamiamo così, di... Il programma che, ripeto, che è di Mara Ghidorzi, la nostra candidata presidente... Farò vedere ancora cosa... Lo slogan principale è rimettere i margini al centro. Noi per i margini al centro... Eh, cosa intendete? Allora, le marginità, le marginità. Nel senso che la gente come noi, siamo noi, anche noi candidati, siamo quelli che viviamo di lavoro dipendente, di lavoro subordinato, sono i precari, sono i giovani disoccupati, sono i pensionati. Non siamo quell'1% che vive nella ZTL delle grandi città che si può permettere un certo tenore di vita. Siamo quelli che facciamo fatica. Il problema è che noi certe cose, i punti fondamentali su cui va detto, la sanità, i trasporti, il lavoro, il dissesto anche idrogeologico, la manutenzione, diciamo, crediamo che questi siano beni comuni, su cui non bisogna che ci sia una logica del profitto. Noi su questo siamo intransigenti, per questo noi ci riteniamo l'alternativa e non abbiamo affatto accordi con il centro-sinistra, perché credo che negli ultimi a meno 30 anni si sia allontanata da questo tipo di mondo reale. Credo che manchi anche un certo tipo di consapevolezza. Quindi, ecco, avete preso sicuramente le distanze proprio dal centro-sinistra, come hai evidenziato tu prima, anche perché ci sono delle cose nel programma che ovviamente non collimano con quelle che sono le vostre ideologie. È ovvio che il centro-sinistra, però, forza di cose, è il nostro, dovrebbe essere il nostro interlocutore, però le politiche attuate negli ultimi anni, ovviamente, le distanze sono incolmabili perché... Non vi hanno convinto, ecco, sostanzialmente, no, non vi hanno convinto. Ma questo da anni non è una cosa recente, lo ribadiamo, ecco. Ecco, quindi la scelta di andare da soli, per così dire, no, senza staccandovi dal centro-sinistra e andando da soli. Stefania, è una scelta che condividi pienamente? Sono d'accordo su questa scelta qua? Condivido pienamente perché credo che sia l'unica vera alternativa, vera, di sinistra e comunque sì, ribadisco, al centro è la persona e tutto quello che ci sta intorno. E anche come c'è nel vostro programma, i cosiddetti margini, coloro che sono un po', che vivono un po' ai margini. I margini e persone anche in difficoltà, gli anziani che fanno fatica a comprare la spesa, ultimamente si vedono file alla carita, piuttosto che alla messa dei poveri, cosa che anni e anni fa non c'era. La gente, secondo me, soprattutto gli anziani, sono quelli più soli. Non sanno neanche a chi rivolgersi, cioè una volta c'era il medico di base che andavo in casa e anche per un confronto, un consiglio. Adesso i medici di base sono talmente pochi che... Ecco, quindi anche questo degli anziani è in effetti un aspetto importante, la nostra società sta invecchiando parecchio, quindi sono poco tutelati. Insomma, anche le case di riposo, cioè il personale delle case di riposo lavora davvero male, hanno dei numeri con due operatori, con 30-40 utenti da lavare, dagli da mangiare, da sistemarli, fare mobilizzazione. Ok, allora Mauro, per chiudere il nostro incontro di oggi, ripeto, Unione Popolare con Stefania Sala, Mauro Baroni, candidati per le prossime regionali. Ecco, il voto, spieghiamolo ancora una volta perché il voto alle regionali è diverso da quello delle politiche ed è diverso da quello delle comunali anche, sostanzialmente. No, beh, quasi simile alle comunali, però va bene, spiega. Sì, beh, comunque noi chiediamo di appunto di mettere una croce sul simbolo di Unione Popolare, ripeto, con Mara Ghidorzi, Presidente. Per farlo vedere ancora bene a questa camera, ok, perfetto, ok, va bene. Mara Ghidorzi, Presidente, ripeto, qualcuno ha parlato di voto utile che si darà al centro-sinistra per sconfiggere le destre. Diciamo che noi vorremmo... Sei da d'accordo su questo? Assolutamente no, siamo qua appunto per ribadire il contrario. Nel senso, il voto utile siamo noi, perché noi appunto siamo l'alternativa e mettiamo a centro la persona i beni comuni, che ripeto, la sanità, la scuola, i trasporti, diciamo anche no al consumo di suolo, perché in Lombardia abbiamo raggiunto livelli, diciamo no alle grandi opere, siamo contrari alle Olimpiadi di Milano-Cortino 2026, perché se guardiamo un attimino indietro vediamo Torino 2006, l'Expo 2015, abbiamo cattedrali sportive nel deserto, impianti di Bob, salti dal trampolino che ormai non verranno più utilizzati e non vorremmo più che ci siano la solita storia investimenti pubblici e guadagni privati. I carichi vanno già alla povera gente che è tartassata, perciò noi chiediamo il voto appunto per avere a meno, portare in consiglio, non abbiamo ovviamente le pretese, i numeri attualmente di poter vincere e governare la regione, però di portare uno o più consiglieri e quindi praticamente per fare una vera opposizione che, ripeto, negli ultimi 29 anni non c'è mai stata, sia ai governi Formigoni, Maroni e adesso Fontana. Solo per questo io chiedo il voto per una vera alternativa, una vera opposizione che magari poi riusciremo a portare anche qualcun altro dell'opposizione sui nostri temi, fare opposizione insieme, chiedo il voto ognuno di Popolare, la preferenza per me è a Mauro Baroni. Grazie a tutti. Stefania, anche a te, dai, un appello e una considerazione sul perché scegliere, allora, appunto, come abbiamo detto, Unione Popolare. Oggi Unione Popolare si è presentata, quelli che sono i capisaldi, diciamo, del vostro programma, ripeto, Mara Ghidorzi è la vostra candidata presidente, finora abbiamo parlato sempre di tutte le altre liste che supportano gli altri tre candidati, questa sera invece, perché lo ricordiamo, sono quattro i candidati che sono in lizza per Regione Lombardia. Prego, Stefania. Dico a tutti e a tutti di votare Unione Popolare con Mara Ghidorzi perché è una lista che ha appunto al centro la persona, la difesa del suolo, come diceva Mauro prima, il potenziamento dei trasporti pubblici, praticamente... Intanto scusami che saluto anche i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, ciao Gianfranco, ciao Luigi, ciao Clara, buon pomeriggio a tutti voi, grazie come sempre di essere in nostra compagnia quest'oggi, qui per parlare, appunto, per spiegare anche, ovviamente, quelle che sono le indicazioni, le indicazioni sono quelle di Unione Popolare. Prego Mauro, volevi aggiungere qualcosa? C'è anche il discorso che siamo anche pacifisti, siamo contro la guerra. Dicono che non ci sono i soldi per investire nelle assunzioni del pubblico impiego, specie nella sanità, però vediamo aumentare le spese militari, hanno aumentato del 2% a base annua, appunto, i finanziamenti per dare le armi all'Ucraina. In questo caso i soldi per anche ridurre cittadinanza, per investire nelle assunzioni, per assumere i medici, per assumere i infermieri, ci sarebbero e vorrei ricordare che gli altri tre poli, quelli che sostengono appunto Moratti, Maiorino e tutto quanto, tutti insieme, appassionatamente, hanno votato a favore di questa cosa. Anche per questo noi ci schieriamo in maniera netta e alternativa. Grazie allora Stefania, grazie Mauro, i candidati che oggi si sono presentati, Unione Popolare, ripeto, che sono qua con noi questa sera per spiegare e presentare.